e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e come avete capito dal titolo oggi ci andiamo a truccare con i prodottini che abbiamo trovato dentro il calendario dell'avvento che mi ha fatto la mia amica sara ciao sara un bacio grande come regalo di natale per chi non l'ha visto può andare a vedere il video dei miei regali autoregali chi lo faccio vedere alla fine in quel video quando faccio vedere i regali lo faccio solo vedere sia chiuso che aperto però lì non lo vado a spacchettare ho fatto un altro video apposta dove vado a spacchettare il calendario dell'avvento quindi se volete andare a vedere questi due video per chi non l'ha visto perché interessato basta che qualche indietro in video indietro e andremo a utilizzare i vari prodottini e meno quelli che c'erano insomma che si possono usare proprio per truccarsi nel calendario dell'avvento allora prima di farvi vedere i prodottini che andremo a utilizzare per fare questo make up io ho fatto già la base come potete vedere e ho utilizzato il siero questo qui che ho acquistato da la kiko adesso lo faccio un attimo vedere per chi non l'ha visto fatto anche video della kiko lo può andare a vedere dove ho acquistato questo siero adesso lo faccio vedere è veramente stupendo aspettate se metto a fuoco ok con i petali di rosa è veramente bello alla pontetta questo qui fa sia da primer nel senso da base e sia anche da quando voi andate praticamente a struccare oltre alla crema passate vi passate anche il siero che vi idrata di più la pelle insomma quindi questo molto buono ha un odore proprio di rosa cioè è fantastico mi è piaciuto tantissimo lo rimetto un attimo dentro la sua scatolina che io le lascio qua dentro perché la scatolina merita almeno i più protetti e non si vanno ne manco a sporcare eccola qua poi sono andata a utilizzare il mascara allora questa qui è della collezione a holly di fable poi sono andata a utilizzare si maschera il fondotinta questa qui la scatolina aiuto questa quella collezione charming escape io ho preso la colorazione 01 ivori veramente stupendo e ciò che appato ragazzi eccolo qua questo qui è il fondotinta eccolo qua molto chiaro come la mia pelle infatti se fate caso vedo guardate ne manco pare che ce l'ho è profumatissimo anche questo mi sono trovata da dio si stende bene cioè guardate uniforma tutto il viso no mi piace veramente tanto bomba e questo qui ha fatto è fatto così vabbè io me lo sono messo così 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 e poi con il pennello da fondotinta me lo sono andata ad applicare su tutto il viso no vabbè stupendo questo pure mi sono trovata veramente veramente da dio pure questo ha la sua scatolina adesso li metto dietro poi bellissimi anche i pack col tappo dorato in vetro opaco bellissimo sono trovata veramente veramente bene top è piaciuto tanto questo fondotinta ho preso il più chiaro perché sono proprio bianca cadaveri che infatti si dice molto al mio viso vedete il manco infani macchie niente si stende bene top bellissimo lo adoro questo fondotinta infatti ripeto è omogeneo è uguale identico vedete la mia pelle c'è ne manco pare che ce l'ho ok adesso passiamo oltre a poi fatto di sopracciglia va bene correttore tutto allora come prima cosa andiamo a utilizzare questa bellissima palette che è veramente veramente bella che ha questi colori qua dopo vedo ide già c'è lo dico adesso di già lo so i colori che andremo a utilizzare come shimmer vado ad utilizzare questo verde perché mi piace veramente tanto e anche questo uno dei miei preferiti che sul violino provo voglio proprio di questo verde poi questi colori da transizione ma vicini per mano mano che andiamo avanti vi dico quali uso ovviamente no poi andremo a utilizzare la mattita occhi questa della marca profusion infatti vedete proprio nuova poi andremo a utilizzare il suo blush che è stupendo è rosa e ha dei micro brillantini oro all'interno veramente bello e questo illuminante sullo champagne bellissimo poi andremo a utilizzare questo bellissimo rossetto che è un nude questo però quasi queste matte perfetto poi andremo a utilizzare le ciglia finte che abbiamo trovato all'interno del calendario con ovviamente la sua colla anche se di queste qui perché queste sono con la colto vicino fatto così preferisco più quelle col pennellino però va bene perché sei più precisa però vediamo poi come sarà e poi come pazzia andiamo a mettere queste stelline qua le faccio un attimo vedere aiuto sono veramente veramente carine credo che le metterò su tutti i makeup che farò poi vedrò andremo a mettere una stellina credo qua una qui e una qua anche carina mi piace tanto ovviamente ci vado in giro non c'è non mi interessa c'è molto molto carino scusatemi ma sti giorni sto malissimo con la schiena mi fa male boia comunque sono messa male un po con la schiena e già soffro fin da fiola quindi ormai per me non è che una novità a questi sono produttini che dopo il calendario dell'avvento amo trovato anche a un altro di questo comunque andremo a utilizzare quasi tutto perché sono 3 4 5 6 7 8 prodotti invece che ne manca altri 4 ma quelli non sono tanto da utilizzare insomma e quindi andiamo a utilizzare questi prodotti di qua ok io direi di cominciare subito adesso metto l'altra ring light che va messa sopra il tavolo meno mi vedete più vicina quindi vi lascio questo makeup e ci vediamo poi fine video come sempre eccomi qua ragazzi mi vedete più vicina ok allora andiamo a prendere la nostra palette bellissima vedete i swatch perché ovviamente ve l'ho swatchata intanto vado a prendere il mio pennello da transizione vado a prendere questo chiaro qui per andare a fissare la palpebra mobile sotto l'arca sopraccigliare che prima cioè che prima quando facendo la base o si si vede ma poco perfetto e per andare a fissare praticamente insomma il correttore che sono andata a mettere ok anche questo è un bel nude comunque si nota anche se non è tanto potente diciamo però come per fissare va più che bene perfetto allora adesso vado a prendere il mio pennello angolare e vado a prendere questo marroncino qua questo intermedio con fronte a questi due a questo più scuro vado a prendere questo e vado a fare la mia transizione mi piace bello adesso vado a prendere questo qua un po schiurietto questo qui prendo sempre il pennello angolare e li metto proprio pochino qua per dai un'intensità maggiore diciamo così poi vado a sfumare eccolo qua bellissimo anche questo non ha coprentissimi perfetto mi piace tanto adesso vado a prendere il primer per andare a mettere poi lo shimmer se lo trovo eccolo questo qui della mica per evolution e vado a mettere il primer ecco qua l'ho messo proprio vedete fino a qui perché mi piace che qua la transizione si vede adesso vado a prendere anche il fissante per il pennello vado a prendere un pennello ovviamente da ombretto ah tanto lo faccio vedere l'ombretto eccolo qua questo bellissimo verde stupendo e vado ad applicare questo tutto sulla palpebra mobile poi lo metto anche un pochino qua ma poco poco per dai un po di brillo di luminosità ecco un po di sbrillucicchio un pochino qua ragazzi è una roba bellissima bomba noi siamo andata a fare la capta l'ho messo anche un po qua vedete ma proprio un pochino no vabbè ad ora mi piace che ci sta qualche micro glitter per lontino quanto la transizione qui lasciato un po meno spazio con frutta l'altra volta è bellissimo sto verde che bomba c'è verde c'è di micro brillantini oro si veramente bello ok adesso invece che ovviamente non ho preso perché qualcosa tanto mi devo sempre scordare il pennellino quello a penna eccolo per andare a mettere l'interno dell'occhio quest'altro scimmerino questo qua che è un oro molto delicato champagne non vi so dire lo vado a mettere all'interno dell'occhio un po qua e un po qua sopra ma poco poco bello carino ci sta bellissimo sto trucco mi piace come sta vinendo 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 non vedendo il pinendo allora adesso invece qua non ho preso come scordi pennelli da prende vado a prendere il marroncino questo qua che vedete più scuro non quest'altro chiarino questo più scuro qui sotto poi riprendo questo qui che ho preso prima per l'interno dell'occhio io vado a smorzare un pochino 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 ok adesso vado a prendere la matita questa qui la della profugia infatti vedete è nuova ma è operata e la vado ad applicare all'interno scusate sto fatto un casino ma faremo forse si all'interno dell'occhio ecco qua ok ragazzi allora io adesso vado a utilizzare che l'ho già utilizzata è una cavolata il piegaciglia l'ho provate ieri sera così di prova e sono riuscita è una cavolata utilizzarlo quindi vado ad andare in tanto con la forma qui vado a mettermi il piegaciglia eyeliner e mascara quindi noi ci vediamo dopo ragazzi allora lo so devo andare a mettere le ciglia finte però non le metto insieme a voi che sarà un disastro io vorrei far notare un attimo cioè guardate le ciglia mi arrivano fino a qua ecco vedete perchè col piegaciglia perchè sono andata a utilizzare questo mascara qui dell'astra che questo è che tanto non è che fa come mascara ripeto non è che fa tutte queste ciglia tanto allungate e invece col piegaciglia che figata sono contenta a parte per chi usa il piegaciglia sa come funziona ma per me è una novità non l'ho mai adoperato e fa delle ciglia guardate poi col mascara veramente lunghe mi piace tanto era per farvelo vedere sono contenta quindi approvate sono buone queste ok vado a mettere la ciglia finta e ci vediamo dopo comunque ragazze allora sono andata a fare anche l'altro occhio ho messo anche le stelline io pensavo che erano dimensioni si qua sono tutta a zozza vabbè poi pulisco pensavo che le dimensioni erano uguali delle stelline invece no sono diverse questa è un po' più grande come potete vedere questa è un po' più piccolina prova bene queste sono le ciglia finte il trucco solo che qua non oh lo attaccate per due volte ma qui nella parte questa qua non mi si attacca qui adesso pare che si è attaccata comunque le ciglia finte pure sono stupende cioè ragazze guardate lo shimmer verde quanto è bello no vabbè sono contentissima bellissimi sti trucchi allora andiamo avanti quindi come avete visto ho messo l'eyeliner vabbè ho messo il mascara vi ho fatto vedere prima le ciglia finte ah l'eyeliner adesso ve lo faccio vedere un attimo eccolo qua ho utilizzato questo qui della Kiko e Sara avevi ragione è molto preciso mi piace veramente tanto bello mi piace grazie Sara che me l'ha consigliato lei quindi dalla Kiko ok andiamo avanti allora andiamo a mettere no non vedo l'ora intanto prendo il fermonello eccolo qua che è partito che è cascata una perlina andiamo a mettere anzi no sono sbagliata prendo quest'altro perlino obbligo e vado a prendere la palettina questa qui della Susi che praticamente è una terra quindi andiamo a mettere la terra ok allora ho messo anche un po' qua tipo contouring non l'ho fatto mai però c'è sta almeno mi scorisce un po' e ci sta ok adesso andiamo a prendere il blush che non vedo l'ora eccolo qua adesso lo faccio vedere è veramente bellissimo vi ripeto è rosa è di microbrillantini oro andiamo subito a applicare che non vedo l'ora ok ragazzi c'è non c'è manco bisogno dell'illuminante sto blush è stupendo mamma mia lo adoro questo la prossima volta l'ho utilizzo come illuminante dopo però l'illuminante lo vado a mettere no vabbè adoro sto blush bellissimo bello 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 veramente tanto ok allora fatto questo sì ho fatto tutto adesso volevo andare a mettere questo qui della Kiko che per te che è lo spray fissante questo qua veramente bello la lavanda cioè guardate la lavanda come se muove scusate scusatemi ok io tu pensavo che me l'ho sporcata col mascara invece era a stellino ok vado a applicare lo spray fissante loro hanno detto che bisogna agitarlo prima che forse sai di spray fissanti eccolo qua guardate come se muove che figata guardate bellissimo 20 cm di distanza occhi chiusi bocca chiusa lo andiamo a spruzzare su tutto il viso poi ho preso questo scottex in benzo di carta e lo vado a evaporare così in questo modo e dice che oltre che vi idrate il viso comunque ve la fa lucida eccetera eccetera in più questo fa anche vuol dire non mi ricordo 4 in 1 aspettate che non volevo dire dove c'è scritto ah come base spray viso multi azione da usare come base per idratare rinfrescare fissare il make up profumato alla lavanda modo d'uso agitare bene prima dell'uso vaporizzare sul viso della distanza di 20 centimetri tenendo la bocca e gli occhi chiusi e non inalare ok andiamo ci dobbiamo essere ho fatto casino con la ciglia messa spostata a toccare attaccarla ancora mi sento un po' bagnata vabbè buonissimo proprio di lavanda mi piace veramente tanto ok quindi anche il fissante spray l'abbiamo messo allora eccomi qua ragazzi allora abbiamo evaporato bellissimo il fissante trucco adesso andiamo a mettere il rossetto questo bellissimo rossetto qua questo nude bellissimo rossetto un bel nude un bel marroncino mi piace ok quindi anche rossetto lo abbiamo messo ok perfetto adesso vado a mettere l'illuminante che non vedo proprio l'ora eccolo qua ve lo faccio vedere da don e lo andiamo ad applicare ok ragazzi abbiamo finito adesso vi faccio vedere il make up completo cioè meglio nei dettagli insomma eccomi qua ragazzi allora dopo le ciglia le rimetto ragazze le risistemo adesso per farvi il video un attimo dopo me le levo e le risistemo perché sono storte guardate perché non mi si appiccica qua non so perché poi ce l'ho messa la colla vabbè comunque intanto io vi faccio vedere il trucco ecco qua guardate quanto è bello sto verde va l'illuminante guardate è stupendo questo rossetto bello anche lui ma l'illuminante ragazze è bello un po' a questo qui è il trucco finito guardate le stelline anche veramente carine non ho messo tante che sono dopo è troppo allora avvicinute più scusatemi a questo qui il trucco eccolo qua quindi noi ci siamo andati a truccare con i trucchi che stavano dentro al calendario dell'avvento io niente ragazzi io spero mi piace tanto questo trucco dopo me il sistema prometto le sopra 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 niente io con questo ragazzi vi saluto vi mando un enorme bacio sotto al video nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo week up e niente io vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao